E cerchiamo anche noi, insieme alle altre forze socialiste, progressiste, democratiche e anche ecologiste d'Europa, di fare ponte tra di noi, di farci forza tra di noi, perché abbiamo tante battaglie e tanti valori comuni da spendere insieme. Sarà questo il cuore della campagna che ci porterà verso la prossima campagna per le europee. Lo voglio dire ricordando un amico, David Sassoli, che continua a guidarci. Grazie. Grazie. Grazie.